Trenkers è specializzata nella cura dell'arboricoltura urbana e in città ci sono mille varietà di alberi piantati dall'uomo e quindi in situazione artificiale. L'arboricoltura urbana deve essere capace di affrontare queste problematiche, deve saper gestire un albero all'interno di un contesto antropizzato, di un contesto urbano, quindi faggi, platani, liriodendri, aceri, qualsiasi pianta che possa venire in mente presente nei giardini pubblici o privati di una città, l'arboricoltore di Kleincare deve essere in grado di poterli curare.